E su Pogba, lo so, ne parlate molto bene, lo sto seguendo, anche lui è giovane, gioca un po', meno di liberati al Parigi, non si può dire che il titolo era Juve, avendo Pirlo davanti, è anche complicato perché si possono giocare insieme. Lui c'è qualità, deve ancora maturare, però come l'ho detto, come Varane che è la stessa età che gioca nel Real Madrid, rappresentano il futuro. Poi tocca a loro fare tutto per diventare titolari e confermare queste qualità.